La giornata del mare di giovedì 11 aprile si è celebrata anche a Golfo Aranci, dove oltre a manifestazioni per la diffusione della cultura marina, l'ufficio circondaliere marittimo ha divulgato i risultati di una importante operazione contro la pesca abusiva. Già l'8 marzo la Guardia Costiera aveva sequestrato 97 nasse posizionate abusivamente senza le dovute segnalazioni nel Golfo di Marinella. L'ufficio marittimo, al comando del tenente di vascello Angelo Filosa e sotto il coordinamento del capitano Maurizio Trogo, ha poi voluto approfondire le indagini sul sospetto che altre nasse potessero essere sul fondo del Golfo. L'intervento dei nucleo operatori subacquei di Cagliari, supportati dalla motovedetta della capitaneria di Olbia CP2116, ha infatti portato al recupero di altre 97 nasse collocate a circa 15 metri del fondale, sempre nel Golfo di Marinella. Sono stati recuperati anche tre corpi morti e abusivi, probabilmente posizionati da diportisti durante l'estate. Numerose specie ittiche intrappolate negli attrezzi da pesca, fra cui polpi e murene, sono stati liberati nelle operazioni a bordo della motovedetta. L'intervento delle capitanerie ed esso mozzatori ha anche consentito ad un pescatore regolare di ricostruire la propria attrezzatura da pesca, proprio perché almeno 97 nasse del totale di quelle sequestrate sono risultate di sua proprietà. Il pescatore lo scorso gennaio aveva infatti subito il furto di 280 nasse e sono in corso accertamenti per verificare se anche gli altri attrezzi recuperati facessero parte della sua dotazione.